Ciao ragazzi e ben ritrovati! Ho due notizie, una secondo me più bella dell'altra. Allora, innanzitutto, la prima e molto importante è che saremo presenti a Luca Comics, quindi se qualcuno di voi ha intenzione di andare in quella che è attualmente la fiera più importante, più grande sul fantasy, sui giochi di ruolo, sui giochi da tavolo, sui fumetti, eccetera, che c'è in Italia, ci troviamo a Luca Comics verso la fine del mese e i primi due, mi sembra, quindi dal 28, 29 e 30 all'1 e il 2 novembre, e quindi primo ottobre ovviamente. E la seconda notizia, ed è veramente una notiziona, è che avremo presente allo stand con noi niente un po' di meno che Darius Hinks. Darius Hinks è uno degli autori nuovi, più recenti di Black Library, che ha vinto tra le altre un premio al suo primo ingresso con Warrior Priest, che è appunto il primo romanzo che ha scritto e che ha vinto subito un Grammy, e dopodiché ha fatto, fra le altre cose, lo Sventragol che avete tutti a casa già tradotto da noi in italiano. Quindi sarà un'occasione per poter stare con lui, parlare con lui, chiedere un sacco di cose e capire come nasce un romanzo, come gli vengono le idee, farci fare un autografo su Sventragol, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, vi aspettiamo a Luca Comics, dovrevo non esserci, ma sto cercando di liberarmi, così magari ci vediamo anche di persona, e quindi appuntamento a Luca Comics. Ciao!